torna sul metro di roma e questa volta porta alfredo cozzino alfredo cozzino questa volta insieme cercheranno il borseggiatore col cane di piccola taglia come dicono prima ragazzi iscrivetevi al canale mettete un bel pollicione in su e adesso godetevi il video oltre perché è grosso mena i rapper no mena no alfredo perché alfredo c'è anche un'associazione animalista e oggi vogliamo beccare il famoso borseggiatore col cane così ce lo togliamo e ce lo togliamo alla torsione così cerchiamo un rega vi sei rubato